Inizializzazione codex pronta. Vediamo che c'è qui. Eccola! Mi presento Rosetta. Dov'è la faccia? Non ha una faccia. E non è una donna. Rosetta è... lei è un alieno. Cosa? Che significa? Significa che hanno usato un cervello alieno per arrivare ai segreti della macchina. Molto astuto. Bene, vediamo che succede attivando il tutto. Qualcosa di strano, credo. Incrociate le dita. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh no. No, non abbiamo capito. Questo non è il pianeta natale del marchio. Gli alieni hanno trovato i marchi come noi e li hanno diffusi. Sono stati consumati. i loro corpi sono scesi al cielo per l'ultima fase. Mio Dio, la luna è l'origine del segnale del marchio, non la macchina. la luna è la convergenza. Gli alieni hanno creato la macchina per congelare il pianeta. perché la luna non diventasse uno. Se la macchina si spegne, tutto si scioglie. e la convergenza riprende non solo qui, ma ovunque siano arrivati i marchi. E questo significa... È la chiave per spegnere tutto. Grazie per aver fatto il lavoro sporco. No! Aggancerà i marchi della terra e ci troverà. Non ti rendi conto di quello che fai? No, all'inizio non mi rendevo conto, è vero. Ma ora è tutto molto chiaro. Non è stata solo la razza umana a ostacolare la nostra gloriosa rinascita, ma anche questa macchina. Va lontano da quella macchina, Denis. No. E ora che ho questo, riuscirò a spegnerla. I nativi del pianeta hanno scelto la morte invece dell'evoluzione. Ora eviterò che l'umanità compia lo stesso amore. Noi tutti insieme saremo resi uno. Forza, uccidetemi! No! Andiamo! Abbiamo ciò che è giusto! Isaac, il Codex! Figlio di puttana! Ha giusto la porta! C'è un sistema di spazio manuale nel posto di controllo, avviva da là! No! Non ce la farai! Ecco! Si è aperta, vai! Vai, io ti seguo! Avari a porta! Dobbiamo chiudere la porta! Ellie, avanti! Ellie! Non si mette bene! È troppo veloce! Isaac, fallo! Fallo! Fallo e basta! Allora! Isaac! Io ti amo! Io ti amo! Isaac! No! No! Il gas continua ad arrivare! Dobbiamo andare via! Ora! È tutto quel che ho! Questa era la sua missione! Sapeva quanto fosse importante! Ora noi dobbiamo portarla a termine! Per lei! Capisci? Lo capisci? Sì! E allora andiamo! Isaac, ora! Isaac! Avanti, avanti, porta! Isaac! Io... l'ho lasciata. Ellie... Isaac! Ehi! Concentrati! Forza! Non andare in crisi adesso! Danica è diretto verso quella macchina! Non deve riuscire a spegnerla! Allora faremo in modo che non la raggiunga! Si è capito! Ok! Ehi! Ehi! Forse Danica ha sbloccato l'accesso ai piani! Dov'è andato? Non lo so! Dove?! Non lo so! Oddio! Figlio di puttana! Ok! Bene! Ci divideremo! Tu vai al primo piano, io al secondo! Ok! Va bene! Ma cerca di... stare calmo! Ho bisogno di te! Isac, so dove è diretto Danic! Per trovare la macchina deve scendere sottoterra e c'è solo un modo per farlo! Il grande silo a nord! Ok, aggiorno il localizzatore! Ci vediamo! Noi rinasceremo! Noi rinasceremo! Eccolo! Fuori a coppia! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.